ultimo, vivo per vivere, tonalità mi maggiore, anzi no, si maggiore con la tonalità di si maggiore sappiamo che è il mi maggiore, il si maggiore chiaramente poi il fa diesis minore e il fa diesis allora questa canzone la possiamo suonare in originale, vediamo un attimo il tempo con questi quattro accordi oppure se mettiamo il capotasto sul secondo tasto abbiamo gli accordi leggermente più facilitati perché troveremo gli accordi, re, la, e fa diesis minore vediamo come cambia con la tonalità la tonalità rimane la stessa quindi che cosa? mettiamo il capotasto al secondo tasto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la velocità originale dell'accompagnamento dello strumming è 80 proviamo con il metronimo vediamo un attimo più lento come si può fare proviamo con il metronimo a 60 a 54 3 riproviamo con il metronimo a 80 qui c'è anche un metronimo a 80 qui c'è anche un metronimo a 80 qui c'è anche un metronimo a 80 con il metronimo a 80 l'accompagnamento è costruito su pricing